A Botrugno e Giugianello il premio Tecne 2013 svolto sia a Calimera lo scorso 8 settembre in Piazza del Sole. La serata è stata presentata dal giornalista Marco Renna. I due comuni si sono aggiudicati in riconoscimento dell'opera pubblica giudicata più interessante attraverso l'insindacabile giudizio di una commissione tecnica appositamente costituita. Il concorso al quale hanno partecipato 79 comuni ha contato quest'anno anche sulla partecipazione di decine di nuovi progetti presentati dai numerosi centri salentini. Hanno vinto quest'anno Giugianello, il più piccolo comune del Salento e Botrugno con due interventi diversi. Uno praticamente era la riqualificazione del cuore del paese con la piazza, quindi Giugianello, questo piccolo centro del Salento che ha riqualificato e rimesso in piedi una piazza che poi è il luogo principale dell'Agorà dove ci si incontra contro tutti i cittadini. L'altro intervento invece è una periferia. È stata riqualificata a Botrugno, una zona di un ettaro con un parco, il Parco dei Pini, devo dire molto bello con delle essenze salentine molto importanti che ha sicuramente avuto il pregio di poter rendere vivibile una zona che prima non lo era. Stiamo dicendo un premio che cresce ogni anno perché il prossimo anno immagino le amministrazioni che hanno in programma degli interventi nelle proprie opere pubbliche cercheranno di fare meglio per poter partecipare. Quindi una missione compiuta anche quest'anno? Beh sì, diciamo che la finalità dell'osservatorio urbanistico Tecne è proprio quella di elevare la soglia di attenzione negli interventi pubblici e ormai giungiamo al decimo anno e quindi possiamo dire di aver raggiunto l'obiettivo di alzare la soglia di attenzione.